Attenzione alla scadenza del collirio. Se avete il flaconcino, se la sua scadenza è come questo per esempio 11 2018, questa scadenza è valida fino a quando voi non aprirete il flaconcino. Una volta che il flaconcino venga aperto, la scadenza è di massimo 28-30 giorni, quindi vi consiglio di mettere dietro, normalmente c'è, la data di apertura, in modo che sappiate quando l'avete aperto e controllare di non metterlo oltre la data consentita. Capita che il collirio si metta solo per qualche giorno e a quel punto uno si ritrova queste boccette per casa che magari ha aperto 3 o 4 mesi prima. Vi consiglio nel dubbio di buttarle via perché la carica batterica potrebbe essere troppo alta e quindi invece di avere un beneficio potreste creare un danno. Ci sono invece i colliri monodose, questi sono fatti così, sono fialettine, si staccano, si aprono. Il contenuto di questa fialetta può essere utilizzato per 12 ore, quindi entro mezza giornata, poi deve essere buttato via. Questa confezione di collirio invece durerà fino alla sua scadenza. Se qui c'è scritto ottobre 2018, ognuno di questi singoli flaconcini scadrà a ottobre 2018. Se avete qualche dubbio sono pronta a rispondervi.